E' stato venduto all'asta da Sotheby's a New York il sacchetto con cui Neil Armstrong ha portato sulla Terra la polvere di Luna. Era il solo oggetto della missione Apollo 11 in mani private, quelle di un avvocato dell'Illinois. Ieri è stato acquistato per 1,8 milioni di dollari da un acquirente anonimo. A certificare che il pezzo era autentico e che dentro c'erano davvero residui di polvere di Luna è stata la NASA.